Ciao a tutti! 10 motivi per avere paura dello stress pur affermando che lo stress non è una malattia ma è una condizione naturale della vita di ognuno di noi è chiaro che se non ben riconosciuto e gestito lo stress può causare svariate problematiche tanto è vero che lo stress non è legato tanto al peso che noi dobbiamo tollerare ma soprattutto al fattore tempo per quanto tempo? consideriamo anche che lo stress ha le sue fasi da una fase di reazione e di allarme fino ad una fase 2 di resistenza ad una fase 3 di esaurimento cioè di consumo delle riserve e allora vediamo bene quali possono essere questi 10 buoni motivi per non sottovalutare lo stress lo stress riduce la risposta immunitaria la continua sollecitazione provoca un maggior rilascio di catecolammine ormoni che in dosi elevate modificano la capacità di reazione degli anticorpi 2. le persone stressate che dimagriscono sono pochissime infatti lo stress aumenta la cosiddetta fame di cibi grassi 3. con lo stress arrivano prima acne, orticari e dermatiti inoltre si registra un indebolimento e perdita dei capelli fragilità delle unghie all'opecia 4. un intenso stress incide sulla memoria breve termine su quella zona specifica che si chiama ippocampo che si occupa appunto della memoria di lavoro 5. le pareti delle arterie e dei capillari si spessiscono a causa dello stress i livelli elevati di cortisolo ovvero l'ormone dello stress aumentano anche il colesterolo 6. la persona stressata è più esposta a disturbi respiratori e ad allergie inoltre si registrano maggiormente colite, gastrite e ulcera 7. la persona stressata mangia più in fretta e digerisce male spesso siamo colti in periodi di stress da quella che si chiama per esempio iperfagia iperfagia si dice a volte da rabbia 8. livelli elevati di stress causano un calo della libido alterazioni del ciclo mestruale e diminuzione della fertilità con lo stress inoltre arrivano maggiormente dolori alle ossa alle ossa e anche alle articolazioni e si ha un incremento del deterioramento delle cartilagini infine se non bastasse punto 10 decimo motivo i livelli di stress elevato causano un'alterazione del DNA accorciando i cromosomi e facendo morire prima le cellule bene questi sono 10 motivi per avere paura dello stress il mio scopo ovviamente è sempre quello di informare e di formare e di non sottovalutare soprattutto il nostro livello di stress ciao e a presto